Alta pressione e bel tempo fino a sabato, mercoledì 18 febbraio, limpido e sereno, buona visibilità e vento moderato, valori termici in diminuzione, mare da poco mosso a mosso. Giovedì 19 febbraio, banchi di nebbia in graduale dissolvimento, sole nelle ore centrali, minime in diminuzione e massime in salita, oscillanti fra meno 1 e 10 gradi, mare poco mosso. Venerdì 20 febbraio, nebbia e scarsa visibilità, minime in risalita sopra lo zero, mare da quasi calmo a poco mosso. La marea di mercoledì 18 febbraio è normale, la minima alle 4 e 15 meno 10 centimetri, la massima alle 10 60 centimetri. Grazie a tutti.